Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Chieti, Gian Pietro. Tracciamo un bilancio, almeno per sommi capi, di questo intenso anno scolastico che si è appena concluso. Ha usato bene il termine intenso. Effettivamente abbiamo fatto, come d'altra parte, tutti gli anni, veramente tantissime iniziative insieme a tutti e quattro gli istituti comprensivi, ma anche insieme al GBV. Per cui devo dire che anche quest'anno il bilancio lo trovo assolutamente positivo. Considerate pure alcune attività che abbiamo fatto e che hanno riscosso successo anche a livello nazionale. Per cui ritengo che anche quest'anno, ovviamente, nonostante le difficoltà che tutti i comuni hanno, abbiamo raggiunto dei traguardi veramente importanti. Voglio citare in maniera particolare anche il Consiglio Comune dei Ragazzi e delle Ragazze che hanno fatto, d'altra parte, come tutti gli anni, grandissime attività con risultati veramente sbalorditivi. Sotto tutti i punti di vista devo dire che questo lo dico con orgoglio. Tutto questo anche a fronte della cronica carenza di fondi che attanaglia un po' tutti i comuni italiani. Segno che con una buona programmazione si può comunque lavorare bene, si possono comunque ottenere risultati. Con una buona programmazione e con la sinergia insieme a tutte le scuole, insieme ai dirigenti scolastici e ai docenti, ritengo che abbiamo fatto veramente un grande lavoro. Ovviamente le difficoltà che tutti i comuni hanno nelle risorse, ovviamente che sono pressoché azzerate, devo dire che qualche anno fa, magari nel capitolo di iniziative scolastiche, avevamo qualche fondo. Diciamo che negli ultimi anni ne abbiamo pressoché azzerati, però nonostante questo non deve servire d'alibi il fatto di non avere risorse per non fare attività. Grazie. Grazie.